Parigi inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere campo è stato Lorenzo Sonego che in una gara incredibile ha battuto Rubloff 5-7. Fuori Fabio Fognini che dopo 5-7 si arrende a Hofner che vince 75, 36, 57, 61, 64. Musetti Show contro Norrie 30. 2026 Gioia Musetti ha fatto una grande partita. Su Alcarazzo Shapovalov. Intervistato al termine del match contro Cameron Norrie, Lorenzo Musetti si gode l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros sicuramente non partito come mi aspettavo ammette il 21enne Carrarino ma sono alla seconda settimana qui e non potrei essere più felice e orgoglioso della mia squadra, pieno di gioia, ho fatto una grande partita. L'italiano sottolinea inoltre che vincere il match in soli 3 set gli ha permesso di essere tonico fisicamente e poter così preparare al meglio la prossima partita. Sull'avversario che giocherà gli ottavi, quello tra Alcarazzo Shapovalov, Musetti dice guarderò alcuni scambi della partita di stasera. Sono due grandi giocatori e sarà una battaglia ma voglio godermi questo successo con la mia squadra. 2019 Musetti show 30 contro Norrie, è agli ottavi. Gli azzurri battono in 3 set il britannico Cameron Norrie e accedono al turno successivo del Roland Garros. Il 21enne Carrarino sfiderà il vincitore del confronto tra Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, e il canadese Denis Shapovalov. 2012 la terza occasione per L Italia è quella giusta e servirà per la partita. 2005 bravi gli azzurri ad annullare due palle break del Norrie e ièi trovare il pareggio dopo tre partite perse consecutive. 1956 sorpasso Norrie 43 su Musetti il britannico gioca una partita perfetta, sfruttando anche il nervosismo dell'azzurro, ormai un po' contratto. 1952 break Norrie, 33 con Musetti 1950 Zitsipas e Urkac vincono il primo set il greco abbattuto Schwarzman 62 dopo 35 minuti di gioco. Il polacco impiega 29 minuti il peruviano Varilla salza bandiera bianca sul 63. 1946 Norrie da tutte le sue energie 23 il numero 13 del mondo tiene la battuta e resta in scia Musetti. 1943 lunghezza del naso 31 continua a servire come meglio poteva l'azzurro che ora sembra volare sulle ali dell'entusiasmo. 1938 Norrie non mola 12 partita di tutto orgoglio per il 27enne di Johannesburg che tiene il turno in battuta a quota 30, accorciando le distanze. 1936 l'azzurro consolida il break senza particolari problemi e segna il secondo game di fila nel terzo parziale. 1934 Musetti Show in partenza dal terzo set break e 10 il Carrarino inizia col piede giusto anche il terzo parziale Norrie annulla le prime due palle break costruite dall'azzurro, regalandone altre due, con altrettanti doppi falli. Poi la palla a rete del britannico chiude la prima partita. 1922 Tsitsipas scatenato intanto, sul campo Susanne Lenglen, la greca e 30 nel primo set contro l'argentina Schwarzman dopo soli 10 di gioco inizio da sogno per la numero 5 del mondo. 1920 Musetti Show 2 set a 0